Buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutti gli operatori sanitari, infermieri e medici che hanno partecipato all'iniziativa promossa da Dermaclinic per quanto riguarda il Covid-19. Avete partecipato veramente in tanti, noi abbiamo messo a vostra disposizione oltre 500.000 euro in trattamenti rigeneranti e avete partecipato in oltre 2.500 persone. Io volevo ringraziarvi per la vostra partecipazione e in virtù di questo grandissimo successo che c'è stato poiché non solo gli operatori sanitari ma anche altre figure hanno partecipato in maniera molto importante alla rinascita post-Covid, quindi alla rinascita dell'Italia, delle persone, dei ragazzi, dei giovani, degli studenti. Ho voluto dedicare altri 500.000 euro in investimento per quanto riguarda l'attività del centro di Castano Primo Dermaclinic altri 500.000 euro in trattamenti gratuiti, suddivisi in trattamenti gratuiti per quanto riguarda proprio un trattamento rigenerante di un'oretta per tutti gli operatori di ambulanze, protezione civile, nazionale ed insegnanti. Quindi tutte queste tre categorie, operatori in ambulanza, protezione civile, nazionale ed insegnanti potranno anch'essi partecipare a questa iniziativa. Quindi poter aderire a questa iniziativa basta cliccare, basta entrare nel sito e prenotarsi il trattamento completamente gratuito. Oltre al trattamento completamente gratuito avrete diritto ad un check-up e chi dovesse aver bisogno di qualsiasi altro trattamento come programma dimagrante, perché noi siamo specializzati nel dimagrimento, avrete l'opportunità anche di avere oltre il 70%, ripeto, oltre il 70% di trattamenti completamente gratuiti. Quindi partecipate numerosi, sappiate una cosa che i 500.000 euro sono limitati, quindi fino al limite dei 500.000 euro, dopodiché ovviamente non è più possibile partecipare. Quindi affrettatevi, vi aspettiamo e grazie per quello che avete fatto durante tutto il periodo del Covid. Grazie.